Ieri c'è stata la firma da parte dei ministri Cingolani e Franceschini sotto un atto tecnico che è la valutazione di impatto ambientale rispetto alla centrale a gas. Questo è un atto tecnico, ma naturalmente la parola ora deve passare alla politica e quindi deve vedere protagonisti gli enti locali, compresa la regione, e a mio modo di vedere anche il governo, circa una scelta, quella di trasformare la centrale Enel in gas, profondamente sbagliata, che noi contrasteremo come Italia Viva in tutti i modi. Abbiamo bisogno di bonificare quelle aree, abbiamo bisogno di investire lì realtà che dal punto di vista energetico non producano più danni al nostro territorio, che lo ricordo a tutti ha pagato un prezzo altissimo. Non è quindi il momento di litigare o di accusarci reciprocamente. Noi abbiamo sempre avuto una posizione lineare, l'Enel adesso se ne deve andare dalla realtà della Spezia e lavoreremo perché compattamente tutte le forze che stanno in Parlamento sostengano questo obiettivo che deve essere, ripeto, un obiettivo innanzitutto che guarda al futuro del nostro territorio. Basta sacrifici ambientali per quanto riguarda i cittadini spezzini. Basta Ursula